52. Invece che altri. Che cosa si intende per sintomi psicosomatici? Commento. Per i maestri i sintomi psicosomatici sono le vibrazioni che colpiscono l'individuo in un determinato organo. 53. L'esperienza non compresa interiore dell'individuo che lui si manifesta come vibrazione segue un cammino preferenziale che lo indirizza verso un organo bersaglio che può essere vicino al centro vibratorio del plesso solare oppure del cuore e così via. 54. Questo avviene per analogia di vibrazione con questi centri vibratori che nella spiritualità orientale sono chiamati chakra. Certi vibrazioni si manifestano presso determinati organi invece che altri.